buongiorno a tutti ragazzi ben ritrovati nuovo appuntamento con responsabilità vinile siamo nel pieno del nostro viaggio attraverso i miei cd personali dopo aver parlato di vinili pazzeschi per diverse settimane adesso da qualche puntata stiamo affrontando questo formato che il formato che mi ha accompagnato di più nel corso della mia vita anche oggi ci sono sei cd di cui parlare tanto rock tanto blues insomma i miei ascolti primari che soprattutto negli anni appunto della post adolescenza hanno cominciato ad essere fondamentali eccolo qua il nostro malloppo di album il primo disco di cui vi parlo è di uno dei più grandi chitarristi artisti blues della storia una persona che ama il blues non può non avere nulla in casa di questo artista io ho diversi suoi lavori vi faccio vedere questo sia bb king grandissimo bb king è un mostro assoluto uno dei re primari e principali del blues questo è lucille and friends un album di duetti di featuring di collaborazioni insieme ad altri grandi artisti del rock del blues del jazz vabbè un brano molto importante when love comes to town insieme agli u2 ma non soltanto perché poi ci sono altri brani insieme a stevie wonder a john lee hooker altro maestro assoluto del blues gary moore joe walsh davvero ringo star ovviamente come batterista insomma grandi nomi grandi nomi del rock del blues la copertina insomma la scatola è un po rovinata ma a noi non interessa questa qua è la track list lucille and friends questo è un esempio insomma poi però lui di di suo ha veramente realizzato canzoni incredibili poi con il suo stile di strumentista di chitarrista veramente inconfondibile il maestro assoluto del blues bb king poi un altro album blues di un artista che non è prettamente legato a questo mondo ma che nel 1994 ha realizzato un disco fondamentale comunque lui un grande artista davvero un grande musicista ossia steve hackett blues with a feeling lui ha insomma per citare la sua più grande attività forse è stata oltre all'attività da solista intendo la sua più grande attività è stata quella di collaboratore con i genesis nel loro periodo degli anni 70 e poi nel 1994 insieme a tutti i suoi album di svariata natura realizza questo disco blues che è davvero tanta tanta roba e dimostra ancora di più le sue grandi capacità da musicista da chitarrista da artista a 360 gradi steve hackett blues with a feeling poi come avevo già detto con i vinili in questa casa c'è tanto materiale di jimmy hendrix questo è un disco che è uscito nel 2002 quindi molto postumo rispetto alla sua morte ma che fotografa in maniera più lucida limpida e anche dal punto di vista proprio tecnologico anche migliore insomma una delle sue ultime grandi performance ossia il concerto all'isola di white eccolo qua blue wild angel di jimmy hendrix questo è un doppio cd che racchiude appunto raccoglie la sua esibizione all'isola di white nell'agosto del 1970 poche settimane prima della sua prematura e ancora se vogliamo in parte avvolta dal mistero morte concerto integrale quindi tutte le sue le sue grandi canzoni le sue attività dal vivo era cioè le sue esibizioni erano qualcosa di eccezionale ma insomma non stiamo a disquisirne troppo perché lo si sa perfettamente si parte da god save the queen per poi andare avanti tutti i suoi grandi successi red house foxy lady age o eccetera 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 davvero imperdibile anche questo perché comunque è realizzato con una qualità molto molto migliore rispetto all'epoca con tecnologie più avanzate blue wild angel estratto dal concerto all'isola di white al festival dell'isola di white di jimmy hendrix andiamo avanti altra grande band anche di loro ho parlato nei vinili questo è un'altra bella testimonianza dal vivo ossia il led zeppelin con how the west was won questo è un triplo album che va a fotografare i loro concerti americani nella zona di los angeles del 1972 ed è stato un lavoro realizzato da jimmy page che lo scrive qua all'interno del disco lo dice mentre stava spulciando un po negli archivi per 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 altre insomma per altre attività legate alle zeppelin video canzoni eccetera eccetera ha ritrovato questi nastri in buona qualità del di questi concerti realizzati nel nella parte di los angeles insomma in quella zona lì degli zeppelin nel 1972 quindi sono registrazioni ottime e che fanno vedere le zeppelin in un loro veramente periodo d'oro how the west was won questa è un'ottima fotografia della potenza di fuoco degli zeppelin soprattutto davvero nel loro periodo più importante andiamo avanti restiamo in territorio rock in questo caso un po più classico questo è un disco che mi aveva incuriosito l'ho pagato poco però mi piacevano tutti questi grandi artisti della prima ora del rock del country e quindi l'ho voluto comprare ossia class of 55 con questi quattro meravigliosi e grandi artisti ossia carl perkins jerry lee lewis di cui abbiamo parlato volta scorsa roy orbison e johnny cash quindi un mix di rock n roll e country grandi artisti che si sono uniti per questo album uscito nel 1986 da una parte come tributo ad elvis e al revival del rock n roll delle origini negli anni 80 ovviamente era stato più che superato e dall'altra parte anche perché loro erano quattro artisti della sun records la mitica sun records l'etichetta discografica che era anche di elvis ma in generale di un po' tutti i grandi artisti in rampa di lancio negli anni 50 per quanto riguardava il rock il blues il country il jazz il rhythm and blues eccetera 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 rock n roll soprattutto e quindi si sono uniti e hanno realizzato questo album che è proprio un loro divertimento si sente molto molto bello sono quattro grandi artisti johnny cash insomma la parte più country diciamo del quartetto però anche carl perkins grandissimo jerry lewis rock n roll a maneta roy orbison che poi prima anche lui scomparso prematuramente aveva fatto anche grandissime canzoni aveva scritto grandissimi brani davvero un bel disco class of 55 infine ultimo album sempre blues perché oggi siamo così con un altro grande bluesman ma lui è veramente artista a tutto tondo ossia Harry Cudder questo è borderline del 1980 lui bluesman assoluto anche lui uno dei re della chitarra slide ma non soltanto perché poi nel corso della sua carriera ha approfondito la musica del tradizionale americana ma anche quella sudamericana anche quella africana insomma e oltre che artista anche davvero un amante dell'etnomusicologia e davvero ha realizzato grandissimi lavori non solo appunto legati al mondo un po' più pop però davvero spaziando in tantissimi settori questo è un disco del 1980 ne ho preso uno a caso ne ho alcuni e lui mi piace veramente tanto davvero grande grande artista Harry Cudder borderline album tra l'altro bellissimo questo full digital recording registrato in digitale eh ragazzi 40 anni fa quindi tanta roba tanta roba anche questo mi aveva mi aveva colpito quando l'avevo comprato va bene ragazzi anche oggi siamo arrivati alla fine ci rivediamo prossima settimana ci stiamo avvicinando alla conclusione di questo format però abbiamo ancora alcuni dischi di cui parlare sono molto contento di farlo ci vediamo la prossima settimana un abbraccio a tutti ciao ciao Grazie per la visione!